Panettoni pronti per la pirlatura Farciti con cioccolato al latte e nocciole Mamma mia ragazzi Fanno un profumo solo così che non vi dico E dopo averli capoggiati Per otto ore ragazzi Vi faccio vedere il risultato finale Guardate qui che panettoni ragazzi Sono veramente fantastici Cotti bene Eh si E poi sono molto molto morbidi già Ora questi li chiudiamo Aspettiamo qualche giorno prima di gustarvi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti